Eccoci qua. Allora, quando ero piccolo, avevo circa 7-8 anni, facevo il chierichetto presso la parrocchia di San Francesco a Padova. Il momento clou della settimana era la messa solenne, nonché si celebrava domenica mattina. Dopodiché, terminata la cerimonia, padre donato ci accompagnavano i piccoli a prendere i kraffen o i cannoli presso un'alteria che stava a 200 metri dalla parrocchia. Solo che per arrivare fino all'attaglio si passava davanti al kouam e lì c'era una specie di momento in sospensione perché vedevamo questo portone enorme da cui entravano e uscivano continuamente i ragazzi neri. Ma che esiste qua? Ci chiedevamo, no? Dopodiché, padre donato, un giorno ci spiega che quello era un collegio africano. Un collegio africano qua a Padova? Ma come è possibile? Cioè, ci immaginavamo che dentro ci fosse, che ne so, i leoni, capito? La foresta, le savane, che si spostassero con l'aliana. Ma cosa che fai, africani qua? Ci sembrava quasi un'enclave africana a Padova, poi vicino a casa nostra. Come è possibile? Dopo 50 anni, don Dante, il grandissimo Don Luigi, mi invitano a mangiare alla messa del kouam. E come ho varcato la soglia, ho provato un'emozione fortissima perché mi rendevo conto che stavo esaddendo un desiderio che avevo coltivato per anni. Mangio con loro e mi spiegano che non c'erano più i ragazzi africani ormai degli anni 80, che erano loro che si spostavano in Africa, insegnano loro come si fa, come si diventa medici. Cioè, come dice giustamente Natalino, hanno realizzato sogni alla Lega, aiutare a casa loro, ok? Solo che questi del kouam lo fanno senza retorica, lo fanno senza chiedere niente, lo fanno e basta. Allora, se noi possiamo aiutare il kouam, facciamolo e basta, col 5 per 1000, mandando una segnata ogni tanto, un vaglia, quello che si può. Ma facciamolo e basta, senza porsi troppe domande. Ciao! Ciao!